Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, tutti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti sulle frequenze della nostra radio. Siamo in una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla Divina Volontà, il dono della iniziare oggi una sezione molto importante, oltre che a mio avviso molto interessante, perché apre un capitolo a mio avviso straordinario, oltre che inedito, e come accennavo nella puntata precedente è un capitolo che mi dovrà necessariamente portare ad una rettificazione, non correzione, cioè di alcune cose che a suo tempo, quando ancora non conoscevo questo dono e questa vita, dissi in vari cicli di catechesi. Allora qui praticamente entriamo nell'ambito di come sistemare, diciamo così, la nostra vita passata nella Divina Volontà. Noi sappiamo che la Vergine Santissima Immacolata, la Divina Maria, ha vissuto fin dall'istante del concepimento nella Divina Volontà e sappiamo che Luisa ebbe dei doni molto molto particolari, quindi certamente contrasse la colpa d'origine, ma ebbe certamente una vita molto molto santa fin dall'infanzia, no? Qualcuno potrebbe porsi il problema, dico sì, e se la mia vita non è stata tutta quanto questo, o magari ci sono stati dei disordini molto molto gravi da cui mi sono poi certamente convertito, ho fatto la confessione in generale, ho fatto tutto di tutto. Come facciamo a sistemare il tutto? Perché nella Divina Volontà, audite a audite, questa è una cosa che non solo si può, ma è quanto mai opportuno farla se si capiscono alcune cose. Ecco, diciamo che adesso il percorso che faremo è di questo genere, leggeremo uno scritto che fa riferimento ad alcuni temi inerenti a questa particolare problematica. Dopodiché io farò proprio degli esempi molto molto concreti, quindi di come si fa questo tipo di operazione. Allora, in che senso questa cosa è una cosa nuova, no? Allora, noi sappiamo che tutti i mali provengono dalla nostra umana volontà. Quando la nostra umana volontà poi si fa contro, si scontra contro la volontà divina, si ha quello che è il peccato in senso stretto, quindi quando si trasgredisce la legge di Dio, no? Ribellandosi contro la sua legge, facendo in maniera grave di testa nostra, cioè non è fare di testa nostra una cosa molto grave, anche se certamente produce delle cose non buone, non lo so, il fatto che io, perdonatemi l'esempio, mi gratto l'orecchia sinistra anziché gratto l'orecchia destra, no? Ecco. Però quando uno commette un peccato va contro la legge di Dio. Cosa bisogna fare quando noi abbiamo commesso un peccato? Perché già qui dobbiamo fare un pochino di ripasso, no? Io sono personalmente convinto, e torno a ribadirlo agli ascoltatori e a coloro che seguono queste catechesi, la comprensione a mio avviso corretta e profonda del dono della divina volontà presuppone, come dire, una adeguata formazione spirituale, teologica e ascetica. Non si può prescindere da questo, perché altrimenti o si rischia di non capire, o si rischia di capire male, o si rischia addirittura di fraintendere, e ci si priva quindi di un patrimonio, di una ricchezza enorme. Cioè il discorso che farò io adesso, e che non è che lo faccio io, da fine del mondo degli scritti, presuppone quello che adesso sto sintetizzando, cioè per esempio la comprensione corretta, chiamiamola così, della teologia del peccato e delle sue conseguenze. Se uno non è consapevole di cosa sia un peccato e del male che produce, e di come innanzitutto in via ordinaria si fronteggia e ci si relaziona con questo tipo di mostro, è inutile fare questo discorso, d'accordo? È completamente inutile. Allora, noi sappiamo, diciamo quelli scritti di Luisa in parte aiutano a comprendere, no? che il peccato è un allontanarsi, un allontanamento dalla umana volontà per fare la nostra, d'accordo? Andando frontalmente contro quello che Dio vuole, quindi questo è noto, si sa, scusate, eh. Bene. Cosa devo fare quando... che cosa produce questa cosa? Ce lo dice il catechismo. Il peccato offende Dio, e lo sappiamo dagli scritti nella divina volontà, ormai abbiamo capito che significa che il peccato offende Dio, penso, no? Il peccato offende Dio nel senso che per il male che produce in me e fuori di me fa un furto al nostro Signore, perché la mia umanità, la mia anima, dalle mani di Dio è uscita bellissima, stupenda, stupenda, e è uscita bellissima e stupenda, per diventare sempre più bella e sempre più stupenda, vivendo in stato di unione interrotta con lui ed elevandosi quindi sempre di più, sempre di più, sempre di più e sempre di più, capite? Questo è il, come dire, è il senso della vita nella divina volontà, no? Ed è anche il motivo per cui la nostra anima è stata creata, noi lo sappiamo dalla Chiesa, la nostra anima era stata creata, piena di grazia, come quella della Madonna, per crescere sempre di più come una Madonna di grazia in grazia e arrivare al termine della vita che era talmente bella che se ne sarebbe volata in cielo, quasi senza bisogno, come dire, di chiamata divina, per quanto era diventata bella e per quanto era diventata fusa con Dio, e ormai soltanto in attesa della pienezza, della fusione che si ha nella beatitudine, d'accordo? Allora, il peccato, la mia bellezza, la deturpa, cioè io divento un mostro quando pecco, e non solo io, ma il peccato, come insegnava anche il buon San Giovanni Paolo II, anche un peccato di pensiero, che rimane nell'intimo del mio cuore, produce una montagna di male, io lo chiamo metaforicamente, perdonatemi, come se uno prendesse l'etame e lo sbattesse fuori in giro, su una serie indefinita di persone, realtà o cose, ci sono dei peccati per esempio che sono direttamente produttivi di effetti negativi sul prossimo, no? Cioè, se uno fa un aborto, te saluto, quella po' l'anima sul pianeta Terra, quell'anima non ci verrà mai, se io ammazzo una persona, gli tolgo la vita, non è che la vita gli viene restituita, certamente Dio potrebbe farle tutte queste cose, no? Sappiamo, no? Non le fa, se io prendo a pugno una persona, se io offendo una persona, la mando a quel paese, cioè ci sono tante cose che fanno del male, come dire, transitivamente, però sono, 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 come dire, io mi ricordo il diritto penale, no? Ci sono dei, 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 dei reati che sono proprio intrinsecamente come offensivi nei confronti della, della persona, no? Ma anche un peccato di pensiero fa del male al prossimo, è la dimensione sociale del peccato. Allora, quindi, abbiamo una offesa a Dio e una produzione di male da parte del peccato. L'offesa a Dio non è altro che il sottrarsi per fare i nuovi idee di noi stessi dalla sua volontà, disprezzandolo e, tra virgolette, sottraendogli quello che è suo, che è la nostra anima e sottraendogli, tra l'altro, per farla poi ridurre in maniera peggiore, degradata. Le anime che si degradano e cominciano a vivere malamente nel peccato e non ci vuole niente a fare una discesa libera, basta una giornata di, 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 di pazzia a fare una bella precipitazione e a proprio consegnarsi andare proprio in braccio, nelle braccia orride e nelle mani unghiose di Satana, non ci vuole niente, e tu, quella bellezza enorme che Dio ha fatto per te, l'ha detto, e ogni volta che ne fai uno è una mostruosità perpetua. Perpetua. Questo è il primo punto. Queste sono cose che già dovremmo sapere. Cosa bisogna fare quando io, come figlio al prodigo, rientro in me stesso, mi metto le mani, se ce l'ho, nei capelli e dico, mamma mia, che ho fatto? Ecco, c'è la divina misericordia. Prima, si va da un ministro di Dio, si tira fuori tutto però, tutto, perché il nostro Signore vuole che si tiri fuori tutto, per due motivi. Primo, per la nostra umiltà e secondo, perché ogni singolo atto intrinsecamente, gravemente disordinato deve essere portato ad essere lavato dal sangue di Cristo. Cioè Gesù non ha versato il sangue così, perché c'è niente da fare, perché i peccati vanno lavati nel suo sangue. Quello è il modo con cui la nostra anima ridiventa bianca. E se tu i peccati non li porti in confessionale, quelle macchie ti rimangono, i peccati non sono tolti, il potere che hai dato al diavolo e che esercita sulla tua anima rimane. Ecco perché ho fatto innumerevoli catechesi, però insomma, capite, chi vuole approfondire, ora si dice, io che ho un po' di rendita non rifarò più ci sono tantissime catechesi sulla confessione in generale, no? Chi vuole approfondire e sapere le cose. Attenzione, ma non è finito però, non è che fatta la confessione, ecco, questa è un'altra pazzia che si crede l'uomo contemporaneo, ma si crede ma non è vera però. Non è che fatta la confessione arrivederci, no, non è arrivederci, perché la confessione, come sappiamo, termina con la penitenza sacramentale. La penitenza sacramentale non è, come dire, dice, ah no, vabbè, Dio ti perdona però, in qualche modo te la devo far pagare, devi pagare una tassa. Sì, te l'ho perdonato però, però, venti losari, quindi, perché non è che te perdona così. No, no, no. Il perdono è pieno e totale se una persona è pentita perché la causa del perdono non è la penitenza, ma è il pentimento. E insieme alla confessione integra dei peccati, il pentimento deve starci, pentimento inteso come dolore del peccato profondo, motivato non dalla paura dell'inferno ma dall'amore di Dio, perché questo sia perfetto, e unito al fermo proposito di non più peccare e dal fermo proposito di fuggire le occasioni, che è quello che diciamo nell'atto di dolore. Quindi per il perdono di Dio ci vuole solo questo. Tant'è vero che Santa Madre Chiesa insegna che quando c'è un pentimento perfetto, anche se non dobbiamo dirlo in giro perché non possiamo saperlo con certezza, in teoria non sarebbe assolutamente indispensabile neanche la confessione. Ma questo è una cosa che non si deve mai presumere, io non ho fatto mai fare a nessuno e mai mettere in pratica né fare le confessioni, prima fare la comunione e poi ti confessi, mai, perché non è assolutamente prudente, anche se però di per sé il concetto è vero, perché la causa del perdono è il pentimento. Certo che poi è richiesta la confessione integra per specie, numero e circostanza, sentite le catechesi perché volesse approfondire, dei peccati immortali. Poi c'è la penitenza però, che la penitenza deve essere adeguata, insegna Santa Madre Chiesa anche oggi, al numero, alla specie dei peccati commessi, ecco perché si deve dire anche il numero. Perché se tu hai detto 400 bestemmie, non è la stessa cosa che se ne hai dette 4, perché il male prodotto da 400 bestemmie è molto più grande del male prodotto da 4 bestemmie. E il demonio questo lo sa, il demonio sguazza quando prende un'anima, comincia a fargli fare, scusate se è il generale della passione. Peccati su peccati, peccati su peccati, fino a quando non sa fare altro che peccati, quasi congola, fa sempre peccati in continuazione, capito? Più ne fa e meglio è. Ecco, perché? Perché ognuno che ne fa in più è un baratro, è un baratro, è un baratro, è una montagna di fango prodotto. Noi se potessimo vedere con gli occhi di Dio il mondo, ci prenderebbe un infarto a tutti quanti, perché noi vedremmo la massa umana, avete visto? È come se ci mettessimo sopra noi una betoniera, avete visto quelle cose che scaricano la calce con gli operai, no? Allora noi abbiamo tutte quante le betoniere sopra la testa e là dentro c'è l'etame, quindi in continuazione piove, sopra l'etame, 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 siamo sommersi. Mo sarebbe da di una parolaccia, stiamo in un mare proprio di, ecco, di l'etame, proprio in continuazione, in continuazione, capito? In continuazione, d'accordo? Allora, chi è che lo spala tutto quanto quell'etame? Perdonatemi insomma il paragone, chi lo toglie? Come se toglie quella roba lì? Perché Dio quando ti perdona, ti perdona d'aver fatto l'operazione di lo spandere l'etame, che è un'offesa a lui, d'accordo? Perché lui ti aveva detto di non farlo e così te rovini l'esistenza, d'accordo? E lui ti perdona e ti ridà la grazia, con la grazia che ti dà tu che devi fare? La prima cosa che devi fare? Devi sparare l'etame, lo devi riparare, capito? Devi cercare di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze del peccato. Ecco perché la penitenza è proporzionata, dice la Chiesa, al numero, alla gravità dei peccati commessi alla specie. Cioè se una persona non ha mai fatto, per esempio, peccati soprattutto inerenti all'infischiarsene di Dio, non andare mai a messa, a bestemmiare, non pregare mai eccetera eccetera. È chiaro che il cuore della penitenza sarà un bel po' di preghiera, un bel po' di messa da partecipare. Perché è questa la riparazione di questa specie di peccati, no? Se uno ha mancato la carità, quindi ha distrutto la vita del prossimo, la penitenza sarà principalmente le lemosi nelle opere di carità fraterna, corporale e spirituale. Se uno è stato un maiale, perdonatemi il termine, quindi è stato uno che si è avvoltolato nel brago dell'impurità e dei piaceri sensibili, se è possibile che lo faccia il penitente, perché poi lì bisogna tenere conto, specialmente oggi, queste sono cose generiche, ma poi i confessori sul piano pratico devono vedere chi c'ha davanti. Ma la penitenza per i peccati impuri sono i rigiuni e le opere di mortificazione. Punto. Sono queste, pregare il ginocchio e altre piccole medie o grandi cose. Questo cosa fa? Questo, diciamo così, sistema la situazione ed è necessaria. Perché? È necessario per riparare il male che hai fatto fuori e dentro di te. Se questa operazione non termina prima della morte, finisce in purgatorio. Non ci sta niente da fa, d'accordo? Uno può fare tutte quante le pie illusioni, può fare tutte quante le stupidaggini, dire tutte le sciocchezze che vuole, ma questo è così. Non c'è niente da fare. Quindi in te vada di fare la penitenza? Per carità, fanne poca, ma da buon divertimento a un purgatorio non si scampa da questo. E non è che Dio te la fa fare perché è cattivo, ritorniamo al discorso. Ah, dici vabbè, a mo' la devi scontare. Purgatorio. Non è. Perché se tu non purifichi, non pulisci la tua anima da tutta quanta la monnezza che ci hai creato, Dio non lo puoi vedere, non puoi vedere Dio. Perché la vista di Dio anziché darti godimento letificante ti darebbe orrore, non la potresti sostenere. I dannati che hanno fatto una rottura non riparabile, quindi non si tratta di mettere a posto qualche cosa che è già stato rimesso a posto dalla passione del Signore, ma l'hanno rifiutata quella, perché non potranno mai vedere, perché se non lo vedessero Dio sarebbe il terrore, l'orrore assoluto. Cioè la cosa pazzesca è che il peccato fa diventare, come fa diventare orrida la bellezza della nostra anima, così fa diventare all'anima del peccatore impenitente e dannato, orrida, la cosa più bella che esiste, che è Dio e la visione della sua essenza. Spero che siano chiare queste cose qui. Cioè la teologia del sacramento della penitenza è tutta qui. Quindi se tu vai da un confessore che fa una confessione e ti dà una penitenza adeguata, non è, mamma quanto è cattivo il confessore, mamma ha fatto un sacco di penitenza, non ci vado più. Ma viva Dio se il confessore si accorge che a te non ti va a fare la penitenza, non te la dà per niente, d'accordo? Te dà tre a mia Maria, alla Madonna, capito? Non c'è nessun problema se vuoi questa penitenza. la farai dopo. Capito? Non si tratta di... Poi si vedrà il giorno della morte, io dico sempre, perché i conti si fanno sempre alla fine. Qualche giorno fa ho fatto vedere ai ragazzi del catechismo la testimonianza che invita a vederla, dato che ci sono tante persone che vedono le dirette oppure ascoltano la radio o vedono le differite delle catechesi. Si trova su internet, sta anche sul mio canale YouTube, se uno vuole e lo conosce. Nella playlist purezza e castità c'è un video di due ragazzi americani, adesso sono marito e moglie, sono Jason e Cristalina, Jason Evert e Cristalina Padiglia, esattamente, con la testimonianza sulla purezza che fanno nelle scuole. No? Allora lui era un ragazzo che aveva conservato la verginità almeno formale, lei no, ne aveva fatte quante Carlo in Francia. e allora a un certo punto sta ragazza dice, bene, ragazzi la verginità è una cosa importante a destra e a sinistra, dice guardate che molti adesso vi prenderanno in giro, quella ancora vergine, non c'ha le donne a destra, ridono, ridono, lasciali ridere, lasciali ridere, falli ridere, falli ridere, d'accordo? Te preoccupate. Poi però arriverà un giorno in cui non ridono più e piangono e ridete voi. Sapete qual è il giorno? È il giorno del vostro matrimonio. Quando tu potrai dire alla tua sposa e al tuo sposo, io ti amo senza dire una bugia, senza doverte andare a confessare dopo, perché non è un ti amo falso, è un ti amo vero, perché il ti amo che io mi do tutto a te e solo a te deve essere vero. Da dove fanno un giro con l'abito bianco che non lo fa, cioè non lo fa, non lo fa, non fatico che non voglio dire. Che abito bianco ti metti? Ma se almeno corre in traccia lo perde l'abito bianco, qua l'abito bianco, l'abito bianco si simboleggia qualcosa, l'abito bianco tutto, cioè è chiaro che io non ho mai fatto niente, no? Non ho mai chiesto da una persona che te meriti l'abito bianco, è evidente, no? Non sono mica matto, ma che te pensi che Dio è cieco? Te presenti davanti all'altare a lui o l'abito bianco dopo che ne fate tutti i colori? Ma che cosa pensa il nostro signore? Ma che te pensi di inganno a lui? Capito? Allora dice il giorno del vostro matrimonio, a loro non ridono più, non ridono più, piangono e chi è che ride quel giorno? Ridete voi, ridete, perché voi potete guardare in faccia il vostro sposo e la vostra sposa e quando alzi il vero, un vero autentico, digli ti amo amore mio, loro no? Loro dopo il matrimonio correranno il rischio che qualcuno lo incontra per strada e il tuo marito gli va a dire funziona ancora tua moglie? Perché è la verità? Allora non ridono più. Allora, il confessore è buono o cattivo? Poi si vede nel momento della morte, no? Se era veramente buono quello che ti ha dato, come dire, due ave marie quando ne avevi fatte quanto è Carlo in Francia, d'accordo? O se magari uno, pur con tanta misericordia, ha cercato di darti una penitenza certamente adatta alla condizione soggettiva del penitente in proporzionata e magari senza che tu sei niente ha provveduto a pagarti il resto dei conti personalmente e lo sanno lui e il padre eterno. Vediamo poi chi è, capite? Vediamo quando si tratta perché arriva poi l'appuntamento con sorella morte e arriva, d'accordo? L'appuntamento con sorella morte e arriva e la nostra vita tende a sorella morte. Scusate se sto divagando ma anche questi giorni insomma ho avuto modo di confrontare, di conoscere alcune situazioni. Ragazzi, il discorso è un discorso molto molto semplice, cioè prima ancora di andare adesso poi ci andiamo a Divina Volontà, per carità. Cioè, la Divina Volontà tra le cose, a mio avviso, stupende che consente all'anima è questa. Tu devi metterti davanti al nostro Signore. Tu e Lui, stacce cinque minuti, stacce mezz'ora, stacce una settimana, fa un ritiro, fa tutto quello che ti pare. Ok? Tu devi dire, oh, nella vita mia, io che cosa voglio? Dì pure io che cosa voglio, però parliamo dopo, che la volontà, quale volontà facciamo? Ma tu che vuoi? A cosa credi? Io a qualcuno mi dico, senti un po', ma a me saluti i giorni, ma tu ci credi in Dio? Ma come ci credo in Dio? A me saluti i giorni, ma tu ci credi in Dio? Ci credi in Dio? O no? Che mica è tanto sicuro. Ci credi che c'è? Che pensi delle verità dei figli? Che cosa pensi? Ci credi veramente che esiste l'aldilà? Ma ci credi veramente che esiste l'inferno, il purgatore, il padre? Ci credi che alla fine della storia Gesù ritorna e riprendiamo i nostri corpi? Ci credi che in cielo non stanno tutti allo stesso modo? Non è che è finita la vita? Vabbè, ci siamo divertiti, tanto è finita la vita, ma già abbiamo tribolato qua, nella valle di noi ci andiamo a riposare. Tutti vanno a riposarsi allo stesso modo? Cioè, il termine della vita è un termine naturale, cioè come tutti vanno alla morte, così poi tutti vanno a riposarsi e chi si è visto si è visto. Tu pensi questo? È benissimo, ma lo sai che la Chiesa Cattolica non insegna questo però, d'accordo? Ci credi tu che la Chiesa Cattolica trasmette la dottrina della fede in maniera indefettibile, nell'assoluta verità? Sì o no? D'accordo? Perché se vuoi credere alle favole? Eh, posso pure credere che è finita la vita come credevano i romani, ce ne andiamo, come si chiama, nel posto, nei campi Elisi, d'accordo? Dove incontriamo gli dèi, incontriamo Ilari e tutte queste frescacce qua. Posso tranquillamente dare letto a queste cose, d'accordo? Che nessuno può, come dire, violentare il pensiero delle persone, ma noi che dobbiamo metterci davanti al Signore, la vita era tua, tu non devi rendere conto né a tuo padre, né a tua madre, né a Tizio, né a Caio, né a Sempronio, né a nessuno, d'accordo? A nessuno, capito? Dovrai rendere conto a Dio solo, se ci credi, né a Don Filippo, né a Don Umberto, né al padre spirituale, né al confessore, né al Papa, né al vescovo, né al parroco, mettila davanti al nostro Signore. La vita è la tua, la vita è la tua, ok? E non possiamo noi andare a farcela vivere da qualcun altro, le ricerche morbose dei padri spirituali che diventano, come dire, è il sostituto di Dio, d'accordo? O il sostituto della mia coscienza, io scarico su tutta responsabilità, su di lui, lui decide e poi, se va bene, io ho fatto vivere la mia vita da un altro, se fa male me la vivo con lui e comincio andando a parlare in giro, male in giro, a destra e a manca e a dire in sacca e a sport e a togliere la fame e l'onore, ma che è sta roba qui? Chiusa tutte queste parentesi, ritorniamo, cioè però ragazzi, questa è una categoria di giovanile, perdonate se mi esprimo così, sentiamoci ragazzi anche un pochino più grandi, mi sento ragazzo pure io, anche se ormai stiamo quasi a mezzo secolo, comunque, vabbè, l'importante è che le nostre anime siano giovani. Questi concetti sono basilari, sono, d'accordo? Io non ci credo agli iscritti di Teresa Piccarrete, e non ci crede, d'accordo? E non ci crede, d'accordo? Però entra dentro il tuo cuore, bene, e interrogati, interrogati, d'accordo? Interrogati, interrogati, cioè una cosa meravigliosa che si scopre nel regno della divina volontà è la bellezza e anche la realtà e anche la serietà della nostra libertà umana, d'accordo? Torniamo al discorso, confessione, perdono e penitenza, bene, faccio una buona penitenza e cerco di riparare tutto il male che ho fatto, attenzione però, però il male rimane, giusto? Gli atti compiuti, cattivi, rimangono, cioè noi dobbiamo immaginare che nel libro della nostra vita, questo lo dice la Bibbia, il libro dell'Apocalisse, al termine della nostra esistenza saremo giudicati, si aprono due libri, il libro della vita, che è il libro dove stanno scritti coloro che dall'eterno il Signore sa che avrebbero risposto positivamente e non avrebbero spiegato la sua grazia, eccetera, eccetera, e poi il libro della nostra vita, pagina per pagina, ogni giorno, è una pagina bianca, su questo cantano bene i The Sun, andate a sentire la canzone, giorno dopo giorno, ogni mattina una pagina bianca del nostro cammino, del nostra cosa, pagina bianca, oggi siamo arrivati, stiamo in diretta alle 5.12 del 22 maggio 2018, stamattina è cominciata la pagina 22 maggio, io ho scritto fino adesso, sto a scrivere pure adesso, con le cose che sto dicendo, se faccio male staccate che si, il nostro Signore mi fa correre poi, no? Ecco, allora, noi scriviamo, ok? Io sulla pagina di ieri non ho potere di che faccio, non posso rivivere la giornata di ieri, non la posso vivere, posso, quello che posso fare oggi, vedere se ho combinato ieri qualche guaio di rimettere la situazione in carrellata, ma non posso cambiare la giornata di ieri, d'accordo? Eh, questo è vero e rimane vero da un punto di vista, attenzione, ontologico, d'accordo? Questa purtroppo è una parolaccia, però c'è un però, però c'è un però, e qui entra in ballo la vita della dinacola. Cosa ha fatto Gesù durante la sua vita terrena? Cosa ha fatto Maria durante la sua vita terrena? Ecco tutte quante le cose che noi non capiamo, loro hanno rifatto tutti gli atti di tutti gli uomini, presenti, passati e future, cioè la mia vita ha due versioni, attenzione ragazzi, credi ce non ce crede, fa come te pare, d'accordo? Ma la mia vita ha due versioni, due. La versione Leonardo Pompei al secolo, perché Maria me l'ha messo mia madre e la ringrazio al battesimo, ma al comune c'è scritto senza Maria, d'accordo? E poi ci sta Gesù e Maria di Nazareth, che vivono quella che sarebbe stata la vita di Leonardo Pompei in maniera perfetta, quindi dal primo istante del mio concepimento fino al giorno della mia morte, hanno rifatto tutti gli atti. Allora, quelli buoni li hanno portati nella divina volontà, quelli cattivi li hanno fatti bene e nella mia vita fatta da Gesù e Maria il peccato non esiste, esiste soltanto una vita condotta ininterrottamente nella divina volontà. Guardate che questo l'hanno fatto Gesù e Maria, l'hanno fatto, attenzione, lo hanno fatto per noi. Noi sappiamo che questo, ecco i passaggi delicati da comprendere nel mondo del divino volere, non è che annulla quello che ho fatto io o lo sostituisce grossolanamente, affatto, d'accordo? Sarebbe troppo facile così, però questi atti sono sospesi e attenzione, nella divina volontà come noi sappiamo il tempo non esiste, non esiste. Quindi io mi trovo adesso che ho quasi mezzo secolo e che adesso non so più le 5 e 12, sono le 5 e 17 e 15, sono passati 3 minuti, perché io sto vivendo nella dimensione del tempo che scorre unitamente a marcia in avanti, non possiamo mettere il reverse, perché è fatto così. Ma la divina volontà e gli atti fatti da Gesù e Maria nel divino volere si trovano nel punto unico del Fiat Supremo, così come la mia vita, la mia vita in Fiat Supremo scorre come un punto unico, sia la versione Leonardo Pompei che la versione fatta da Gesù e Maria. Stanno tutte e due qua. Allora, che succede? Vediamo la mia vita reale. Se io ho fatto un sacco di guai, ho scritto un sacco di sgrammaticature, di sfrondoni nelle pagine bianche della mia vita e le ho confessate e le ho riparate per quanto posso con la penitenza, sapete che succede? Quando vado ad aprire quel libro, nei punti dove c'è stava lo sfrondone, c'è un bollino, avete visto, una piccica, ci si mette in un marchio sopra, c'è scritto misericordia. Quindi non si vede più lo strafalcione, si vede che c'era, però misericordia. La misericordia di Dio l'ha cancellato unitamente alla mia penitenza. D'accordo? E fino adesso rimaniamo qua. Ora che cosa c'è di nuovo? Che io, la mia vita, me la posso rifare. Ci dobbiamo rifare la vita. Oh, ma magari ci dovessimo rifare la vita. E sapete come si rifà la vita? Andando a rifare tutti i nostri atti che Gesù e Maria hanno già fatto nel divino volere. Questo è un esercizio chiaramente spirituale. Non soltanto io riprendo, questo è per certi aspetti, presenta dei punti di ricontatto con il lavoro che si deve fare per preparare una confessione generale. Comunque ci mette un sacco di tempo, d'accordo? Certo, e questo è ancora più ampio questo qui, perché io posso, per esempio, i giochi che ho fatto nella mia infanzia. Quando giocavo con le costruzioni, quando giocavo con i soldatini, quando facevo i giochi da tavola con i miei amichetti, tutte queste cose qua. E quelli sono atti che si possono rifare nella divina volontà. Perché? Perché Gesù bambino ha giocato quando era piccolo. Gesù bambino giocava quando era piccolo. La Madonna giocava quando era piccola. E sicuramente i miei giochi sono tutti stati rifatti da Gesù e da Maria. Allora, che cosa succede? Se io vado a rifare gli atti, vedete come si dice nella divina volontà quando si fanno i giri, come, capito, come, facciamo come se non avessi mai fatto quello che ho fatto. Io mi prendo quello che Gesù hanno fatto per me e lo faccio mio nella divina volontà. Questo è un esercizio interiore. Fare questo significa che non soltanto, non soltanto, cioè io trovo il bollino misericordia, ma il mio libro viene riscritto in maniera perfetta. Non so se mi spiego. Quindi non è che io posso semplicemente cominciare a fare la vita nel divino volere da adesso in avanti, ma posso anche rifarla all'indietro. Per il principio dell'eternità del Fiat Supremo e del suo essere un punto unico che coinvolge il tempo e che abbraccia il tempo singolo in ogni sua dimensione è per il principio di quello che Gesù e Maria hanno fatto non solo per sé e a nome di tutta l'umanità, ma a nome di ogni singolo essere umano presente, passato o futuro. Non ci devi ad intorno avere nessun dubbio che tutta la tua vita è già stata rifatta nel divino volere da Gesù e da Maria. Non c'è nessun dubbio su questo. nessuno. Qual è come dire l'utilità di questa operazione? Ma che scherziamo? Qual è l'utilità di questa? Avete visto per esempio le presunte catechesi che io ho fatto sul concetto della possibilità reale della trasmissione del male per via generazionale, ma anche non soltanto per via generazionale. Cioè uno mi manda una maledizione e quella maledizione in qualche modo a me mi arriva. E come faccio io proprio a disattivarle queste cose qui? Se mi blindo nella divina volontà. Se mi blindo nella divina volontà, perché nella divina volontà, nella divina volontà non c'entra niente di ciò che possa farmi del male. Ma sai che significa niente? Significa proprio niente. Zero assoluto. Zero. Zero e zero. Non è semplicemente una purificazione, no? Le preghiere per andare a ripulire l'albero genealogico, le preghiere di liberazione, anche di autoliberazione, no? Per andare a buttare via insomma tutto quanto a sta valanga di male che potrei portarmi dietro, no? E che tutti più o meno in qualche modo ci portiamo dietro? È meglio rifare gli atti nella divina volontà. Molto 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 più profondo e molto più benefico, a mio modestissimo avviso. D'accordo? Perché il beneficio, la portata benefica che la divina volontà reca alla persona e intorno a sé supera di gran lunga tutta la montagna di Letano che in continuazione gli uomini stolti, poverini, o molto più spesso ignorantemente stolti, non le sanno, non sanno quello che fanno, producono senza metterci mai fine. Allora, spero di essere stato chiaro. Questa era una lunga introduzione perché questo, a mio avviso, è un tema fondamentale. Perché qui non si tratta soltanto di provare a entrare nel regno della divina volontà e quindi dice bene, da oggi in poi nuova vita. Ovviamente con tutta quanta la gradualità che questo comporta, l'abbiamo già detto tante volte, non esistono schiocchi di dita, non è una scorciatoia questa via, l'abbiamo visto nelle due puntate precedenti, non lo è. D'accordo? Però è una via divina, meravigliosa. Ecco. Però possiamo e dobbiamo, siccome noi siamo fortemente, come dire, fortemente condizionati in negativo da quello che abbiamo fatto, se quello che abbiamo fatto lo andiamo a rifare nella divina volontà, è un'altra cosa. Sare tranquilli che ci sono una serie di esempi che farò proprio, cioè, chi vuole prendere appunti poi, no? Può farlo tranquillamente perché avverto gli ascoltatori, no? Quando poi entrerò nel merito, avvertirò, leggerò con più calma, ci sarà proprio una rassegna di 3-4 pagine di esempio, chiaramente. Ovviamente questo qui può essere tranquillamente personalizzato, anzi, nella divina volontà. Più personalizzato è meglio è, però, come quando uno, per imparare a fare un giro, deve avere qualche piccolo esempio, no? Io ho sempre, per esempio, consigliato di usare il più pellegrinaggio della divina volontà, perché il più pellegrinaggio nella divina volontà è una sintesi completa, cioè lì si vedono i giri nel Fiat Creante, nell'umanità di Gesù, nell'umanità di Maria, nel Fiat Santificante, nei Sacramenti, ci sono tantissime cose, no? Quindi se uno lo legge con attenzione, impara, come dire, impara la metodologia, impara, come dire, esistenzialmente la caratteristica, cos'è un giro, d'accordo? E qual è la sua portata Santificante. Così se uno si mette, si dice, beh, devo rifare gli atti della mia vita, concretamente come devo fare? Lo vedremo tra un po', perché prima leggiamo ancora la teoria, forse non lo vedremo oggi, lo vedremo nella prossima puntata, perché comunque dobbiamo leggere insieme uno scritto che fa capire il disordine, purtroppo, che crea l'umana volontà e il vuoto che si crea in tutta una serie di atti divini che devono essere colmati da noi, come? Riprendendoli e ripacendo. Anche gli atti buoni, perché sappiamo che la vita nella divina volontà non è solo, non è solo fare la divina volontà, ma vivere nella, cioè il principio dei miei non è soltanto fare una cosa per Gesù e per suo amore, perché e per chi, ma è farla anche avendo lui e la volontà divina come principio, non me. Viene divina volontà nel mio parlare, per esempio, questo significa, cioè parlo io, ma voglio che il principio primo del mio parlare sia la divina volontà, perché questo mio atto ormai dobbiamo saperlo dal punto in cui siamo nelle catechesi, no? Non sia un mio atto umano che per quanto buono è sempre limitato, ma sia un atto divino. Abbiamo già detto nel corso delle catechesi, per questo che bisogna sentirsi da tutte, che se io faccio questo unitamente alla consagrazione totus tus, con cui io porto tutti i miei atti nel cuore immacolato di Maria perché siano anzitutto purificati, purificati, e poi divinizzati, portandoli nel divino volere, veramente la mia vita diventa una vita divina in tutto e per tutto. Fermo restando che anche il contenuto dei miei atti deve essere buono, quindi devo imparare ad avere un confronto continuo con la divina volontà, continuo perché anche un piccolo atto immediato, è arrivata una mail, rispondo subito, rispondo dopo, rispondo un messaggio, rispondo un messaggio, rispondo, cosa rispondo, faccio sta telefonata, non la faccio, che dico, che non dico, adesso questo non è un'operazione da nevrotici matti, no? Quindi si vive sempre con estrema suavità, con estrema tranquillità perché poi il divino volere si fa sentire vive operante, ci guida dolcemente, delicatamente a chi sceglie e desidera assecondarlo, no? Però comunque è una cosa che bisogna fare, ma anche il principio è comunque degli atti che ha fatto bene. Allora, leggiamo questo scritto che è dal volume 33, 18 dicembre del 1933, quindi siamo ad alti livelli e qui siamo al dottorato di ricerca nella divina volontà, quindi stiamo proprio arrivati quasi alle vette sublime, quindi è bellissimo e lo leggiamo e cercheremo di dare qualche piccola spiegazione. Allora, la mia povera mente continua a valicare il mare infinito del Fiat e per quanto si cammina non finisce mai. L'anima in questo mare sente il suo Dio, il quale la riempie fino all'orlo tutta del suo essere divino, in modo che può dire. Dio mi ha dato tutto se stesso e se non mi ha dato di chiudere in me la sua immensità, sentite che bello, è perché sono piccola. Valicare il mare infinito del Fiat e per quanto si cammina non finisce mai. bellissimo. Ora in questo mare, attenzione, si trova in atto l'ordine, l'armonia, i misteri arcani del come Dio ha creato l'uomo ed i prodigi sono inauditi, l'amore è esuberante, l'amore Dio dice no, qui non ci arriva nessuno, questa è tanta roba, è veramente un qualche cosa che non ci siamo, non ci possiamo arrivare così in alto. C'è tanto del misterioso che nell'uomo stesso, nelle scienze, possono ridire con chiarezza sulla formazione dell'uomo, ma voglia a far tutte le teorie, le ipotesi, gli impicci, la creazione, Big Bang, l'evoluzione, i protozoi, tutti gli illusi, gli australopitechi, tutte queste cose qua. Buon divertimento insomma, no? Va bene. Onde sono restata sorpresa delle magnificenze prerogative che possiede l'umana natura. Qui non si, vedete, la divina volontà, non è a fare, uh, ma uno mortifica sto povero uomo, la volontà umana, che brutto, ma che te mortifica? La volontà umana non si intende dalla facoltà della volontà, la natura umana è una cosa bellissima, la volontà umana si intende sempre, questo bisogna sempre sotto intenderlo, la volontà schiama del peccato, la volontà è decaduta dopo i nostri progenitori, la volontà che il diavolo ci giocava come ragazzino e ci va senza che ce ne accorgiamo tutto quello che vuole lui, dalla mattina alla sera. Ma l'umana natura in quanto tale, se uno la potesse vedere, ma è un umano qualche cosa di meraviglioso, basta fare qualche giro, fatelo, nel corpo umano, intanto nell'occhio, nell'orecchio, andate su internet, fate fare una bella lettura, guarda l'occhio umano, là c'è una lettura, e tu dici che un capolavoro è l'occhio umano per esempio, ma se l'occhio patino è uno, cioè l'anatomia umana, io se ci avessi tempo, giusto per qualche giro passerei la vita, veramente, a leggere da una mattina a una sera, a leggere l'anatomia per esempio, la botanica, tutte quante le specie delle piante, la zoologia, tutte le specie animali, cioè solo a studiarti il libro del fiat creante, a studiartelo bene, con gli occhi da adesso, continuamente a dire ti amo, ti amo, a stare a guardare uno spettacolo, d'accordo? Cioè gli uomini questi in parte lo fanno, ma lo fanno sempre come ladri, quando vanno in giro a vedere i posti, i boschi, che ne so, il Grand Canyon, come si chiama, l'altro che sta negli Stati Uniti, Yosemite, come si chiama, Yosemite, una cosa del genere, cioè i grandi parchi naturali, le cascate del Niagara, qui in Italia, le cascate delle marmone, l'Umbria, le Dolomiti, cioè questi tutti quanti spettacoli, io per esempio quando posso andare in un bosco a farmi una passeggiata, se potessi starci dalla mattina alla sera tutti i giorni ci andrei, d'accordo? Ma non semplicemente per il diletto che mi piace tanto camminare, ma tu ti giri e proprio tu lì, quest'ordine, quest'armonia, la respiri, dice, qui c'è gente che obbedisce, d'accordo? Tutti quanti questi alberi, tutte quante queste piante, tutta quanta gente che fa volontà di Dio perfettamente, io no, è questo che passa una passeggiata nel bosco, o passa un giro dentro il fiume, che ne so, con la canoa, dentro il lago, tutte quante le cose belle, cioè nella divina volontà uno imparerebbe, a mio avviso, anche a divertirsi molto di più, cioè a divertirsi santamente, d'accordo? Come Dio vorrebbe che ci trastullassimo delle cose belle che abbiamo fatti, invece noi che adesso comincia il caldo, il male l'abbiamo trasformato in un carnaio di impurità, dove se ci volesse un nono cristiano normale non ci può andare, d'accordo? A meno che non voglia peccare mortalmente ogni volta che gira l'occhi, cioè o rischiare di peccare mortalmente ogni volta che gira l'occhi, chiusa parentesi, perché poi Dio fa sempre le cose fatte bene e noi ci mettiamo del nostro, chiusa parentesi, per andare a rovinare tutto quanto. Allora, e il mio bene amato Gesù nel vedermi così mi ha detto, figlia mia benedetta, cesserà la tua meraviglia se guardando bene in questo mare del mio volere vedrai dove, chi, come e quando fu formata ogni creatura, cioè ragazzi qui a mio avviso questa serie di cose ci porta via un'altra 20 minuti, speriamo di no, che devo finire entro la fine di giugno, ecco, allora, figlia mia benedetta, cesserà la tua meraviglia se guardando bene in questo mare del mio volere vedrai dove, chi, come e quando fu formata ogni creatura. Quindi dove, fosti formato tu che stia ascoltando questa catechesi, attenzione, dove, nel seno eterno di Dio, e chi ti ha formato? Dio stesso le dava origine. E come? Ragazzi, ci leggiamo forte? Lo sai come t'ha creato Dio? Lo stai per sapere, appena leggo questo libro. L'ente supremo, attenzione, attenzione, lui stesso formava la serie dei suoi pensieri, il numero delle sue parole, l'ordine delle sue opere, il moto dei suoi passi e il continuo palpitare del suo cuore. Dico, abbiamo capito? L'ente supremo, ripeto, lui stesso formava la serie dei suoi pensieri, dei tuoi che stai ascoltando, tutti, nessuno escluso. Il numero delle sue parole, tutte, nessuno escluso, non c'era manco una parola inutile, manco una parola non necessaria, manca una parola cattiva, manca una parolaccia, manca una bestemmia, manca una parola offensiva. L'ordine delle sue opere, tutte sante, tutte bellissime, il moto dei suoi passi e il continuo palpitare del suo cuore. Ci mettiamo una mano sul petto, d'accordo? Ce la mettiamo, lo sentiamo tun tun. Questo è stato formato, abbeterno nel seno di Dio. chiaro? Attenzione, sicché Dio le dava tale bellezza, ordine d'armonia, da poter trovare lui stesso nella creatura, con tale pienezza che essa non troverebbe posto da mettere alcunché di suo che non gli era stato messo da Dio. Capito? Capito chi sei tu? Questo sei. Capito? Perché noi, ogni essere umano che ci abbiamo davanti, lo devi rispettare, lo devi amare, perché così l'ha fatto il Padre Eterno. Lì, dietro ogni essere umano, c'è veramente la mano di Dio. Chiunque sia, qualunque colore ci abbia, qualunque stirpe, religione, cosa, qualunque di tutto, è un'anima. Questa è un'anima. sicché Dio le dava tale bellezza, ordine e armonia da poter trovare lui stesso nella creatura con tale pienezza che essa non troverebbe posto da mettere alcunché di suo che non gli era stato messo da Dio. Noi nel guardarla, attenzione, restavamo rapiti che nella povera piccola cerchia umana, la nostra potenza aveva racchiuso il nostro operato divino. Ha capito? Noi pensavamo, mostravamo a fare le meditazioni del mese di maggio, no? Una mattina, sulla Madonna, quant'era bella, che ha rapito Dio. Ma Dio ha rapito! Tu lo sapevi che Dio è stato rapito guardando quanto eri bello tu e quanto sei bello tu, se fossi rimasto come lui ti aveva pensato? ci avevi mai pensato? E nella nostra enfasi d'amore, stai attento, qui Dio parla con te, le dicevamo, quanto sei bella, opera nostra tu sei, tu sarai la nostra gloria, lo storno del nostro amore, il riflesso della nostra sapienza, l'eco della nostra potenza, la portatrice del nostro eterno amore. Capito perché Dio ha creato l'uomo? Ma adesso diamoci uno sguardo in giro, vediamo questo noi in giro, noi vediamo questo in giro, vediamo questo. Io ultimamente mi sta prendendo veramente un dolore profondo perché io mi guardo in giro, semplicemente guardando in faccia le persone, i gesti, i comportamenti, vedo, seduta stante, l'orrore della volontà umana e dico ma tu guarda questi poveracci come stanno campando, ma proprio mi viene un dolore grande sia per loro, sia per Gesù e Maria che dice ma tu guarda, guardando sto poraccio, guarda che mostro che gli ho capito, chi lo sa quanto sarebbe bello questo qua, mi viene. Perché io ci credo a queste cose qui, io ci credo e come? Dottrina più pura e più bella di questo non ho mai sentito la vita mia io fino adesso. E l'amavamo con amore eterno, senza principio e senza fine. E quando veniva formata queste creature noi? Attenzione eh, attenzione, ab eterno, perciò essa nel tempo non esisteva, ma nell'eternità è esistita sempre, aveva il suo posto in noi, la sua vita palpitante, l'amore del suo creatore. Perché allora l'eternità è cosa diversa dal tempo, questa non è la dottrina della preesistenza delle anime di Platone, niente, ne è manco per idea, d'accordo? Perché l'eterno e il tempo stanno su due dimensioni incommensurabili, non riducibili. La mia anima ha cominciato ad esistere da qualche mese prima della mia data di nascita, nella sua realtà, ma nella mente di Dio esiste ab eterno. San Paolo quando parla dell'incarnazione del vescovo, del verbo, dice il lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati dal suo cospetto nella carità. Questo è San Paolo, non è Luisa Piccarreta, per chi ha problemi con le rivelazioni private, è giusto che si abbiano problemi perché sono comunque rivelazioni private, d'accordo? Questo è San Paolo però, ok? Qui non c'è altro che una focalizzazione, una spiegazione. Nell'eternità esistirà da sempre, aveva il suo posto in noi, la sua vita palpitante, l'amore del suo creatore. Cioè questa è tanta roba questa qui, eh. Sicché la creatura è stata sempre per noi il nostro ideale, il piccolo spazio dove svolgere la nostra opera creatrice, il poggio della nostra vita, attenzione, lo sfogo del nostro eterno amore. C'è qualcuno di quelli che sta ascoltando che non gli piacerebbe ricevere uno sfogo d'amore di Dio, cioè che Dio gli mandasse, come dire, una botta, capito? Un'ondata? Se qualcuno, insomma, disdegnerebbe una cosa di questo genere, ma per questo lo siamo stati creati, eh. Allora voi capite anche tante cose che si leggono negli scritti di Luisa e che i poveri piccoli uomini, d'accordo, che dinanzi alle cose grosse che non capiscono cominciano subito poi a escluderle e dicono, mamma che è questa roba? Ma come che è questa roba? Gesù che gli va vicino, che l'abbraccia, che ci parla intimamente, che la bacia, d'accordo, la bacia, d'accordo, abbiamo già fatto questo discorso, questo è quello che Gesù vorrebbe fare con tutti, lo farebbe con tutti, d'accordo, con tutti, con tutti, non lo fa perché non trova in noi più le condizioni per poterlo fare, siamo noi che glielo impiediamo di farlo. attenzione, prosegue Gesù, ecco perciò tante cose umane non si comprendono, non si sanno spiegare, ha voglia a cervellarsi e arrampicarsi sugli spetti, quando poi non ci capiscono più niente, i cosiddetti scienziati cominciano a dire questo è il caso, il caso che la risposta perdonatemi degli stupidi, dato che è l'anagramma della parola caos, che è il contrario dell'ordine dell'armonia divina di cui abbiamo sentito parlare qui, d'accordo, tante cose umane non si comprendono, non si sanno spiegare perché c'è l'operato dell'incomprensibile divino, ci sono i nostri misteriosi arcani celesti, sentite che bella questa, le nostre fibre divine, ma che bella questa espressione, fibre divine, per cui noi soli sappiamo i misteriosi segreti, i tasti che dobbiamo toccare quando vogliamo fare cose nuove ed insolite nella creatura. Se uno se lo imparasse a memoria questo paragrafetto, guarda, farebbe già un grandissimo servizio a se stesso, cioè la percezione della nostra piccolezza, della nostra miseria e della grandezza di Dio, cioè è del fatto che tu non capisci niente, non ti offende che ti dico così, me lo dico pure a me, tu non capisci niente, è Dio che conosce, che comprende, che sa. Ecco perché la forma di vita più alta è l'abbandono completo in questa vita. Fa niente che io non capisco niente, lo capisci tu, fa niente che io non so niente, lo sai tu. E lui lo sa, non è che lo dice per scherzo. E siccome non conoscono i nostri segreti, ne possono comprendere i nostri modi incomprensibili, incomprensibili che abbiamo messo nell'umana natura, giungono a giudicare a modo loro e non sanno darci ragione di ciò che noi andiamo operando nella creatura. Mentre l'uomo è obbligato a piegare la fronte a ciò che lui non comprende. Faccio un commentino a quest'ultimo paragrafetto e poi ci fermiamo perché vedo che stiamo arrivando fuori tempo massimo. Allora qui il nostro Signore dice anche una grande cosa. Le cose che oggi Gesù ci ha detto sono cose grosse. dove, chi, come e quando fu formata una creatura, dove nel Serio Eterno di Dio, chi l'ha formata? Dio stesso. Come? Non semplicemente creando l'anima, ma formando tutto il florileggio di tutta la sua vita in tutte le sue dimensioni contingenti e singolari, cioè secondo per secondo, la tua vita è stata formata nella mente di Dio. Però questa sua formazione, cominciamo col dire, non si riproduce in te in automatico e in automatico non si riproduce in nessuno. Si è riprodotta perfettamente, vediamo chi è, che lo sa, in una sola creatura. Una sola creatura, una sola, una. Quello che Gesù aveva detto, gliel'ha mostrato, gliel'ha fatto vedere realmente nel tempo, non soltanto in quello che Dio ha pensato, perché quello che Dio pensa è tutto perfetto. Poi bisogna vedere che siccome la nostra anima ha comunque il dono della volontà, perché è immagine di Dio ed è libera, bisogna vedere che cosa combina. Cioè, se liberamente si priva della possibilità di fare di testa sua e quindi in toto si mette a leggere e a scrivere il libro già scritto per lui da Dio stesso, ed è un'operazione non deterministica, ma è un'operazione a cui continuamente coopera con gli atti suoi liberi e volontari, ma compiuti in questo progetto, in questo disegno, in questa divina volontà, oppure no. E quando, ci ha spiegato Gesù, nell'eterno. Nell'eterno. Abbe eterno. Poi c'è il problema tempo. Ma il problema tempo, e mo' dobbiamo dare, facciamo il trailer per la prossima puntata, il problema tempo, abbiamo visto nell'introduzione di questa catechesi, come si risolve. Confessione. Buona penitenza sacramentale e andarti a riprendere questi pensieri, queste parole, queste opere, questi passi, tutto quello che già c'è. E riparli. Il segreto della divina volontà è questo, capite? È questo. È l'entrare dal tempo nel mondo dell'eterno. Ragazzi, io lo capisco benissimo, io ho già avuto modo di sentire un sacco di gente che non c'è, per l'elevatezza di questi pensieri, che però io sto cercando di rendere il più semplice possibile, proprio per aiutare le persone a entrarci, svalvola, sbarella, e come l'uomo, tutto ciò che l'uomo non comprende, o che, come dire, intacca i suoi schemi, soprattutto rigidi, mentali, cioè per esempio, ci sono una tipologia di persone, non voglio fare assolutamente riferimenti concreti, ma ce l'ho dentro la testa, una tipologia caratteriale, comportamentale, e anche, come dire, di collocazione ecclesiale, io sono sicurissimo che dinanzi a questi scritti qui, va in tilt, su instantaneamente, viene di danza anche una sport, perché per le rigidità mentali che si portano dietro, rigidità mentali che sono sempre una cosa grave, il Papa giustamente le stigmatizza, perché la rigidità mentale non è severità giusta e obbedienza a Dio e alla sua legge, non è questo, è altro, svalvolano, sicuramente, sicuramente, perché questo è un mondo divino dove regna la libertà. Ok? Continuiamo la prossima volta, e non lo so se arriveremo agli atti, perché c'è ancora da finire la lettura dello scritto, che non è finito. Non c'è fretta, ce le gustiamo piano piano, me le rigusto volentieri, anche io, l'ho già rifatti gli atti della mia esistenza, per grazia di Dio, traendono immensi benefici, però, vale veramente la pena di centellinarle piano piano, insomma, di gustarle a sorsetti piano piano, perché qui c'è la possibilità, a mio avviso, di grandi svolte di vita. Appuntamento, alla prossima settimana, con la mia benedizione, Ave!